Parla parla e Francesco è rimasto senza voce Dai Francesco è tardi Ma con i messaggi Si è fatto capire lo stesso No dai adesso mi dici che hai gli allenamenti Io mi sono organizzata Mi chiamato la babysitter Non è stata la voce eh Francesco scusa Che voti avevi? 442 Guarda messaggi proprio a tutti Con infiniti messaggi tutti Ogni giorno messaggi gratis Dopo il primo verso tutti E fino a giugno niente canoni Sei rimasto senza parole eh Vodafone